Oggi è un nuovo video di un gioco sul telefono come avete letto nel titolo Di praticamente voi adesso mi direte una nuova mazza scemo Perchè io vi ho detto a tutti che odiamo il calcio E appunto io lo odio però questo gioco mi sembra carino Visto che a tutti i maschi mi piace il calcio ve lo faccio vedere Gara di tiri, posizione, gara di tiri Ok, questo non possiamo, vai Contro di... Quest Vabbè contro un quest Vediamo di vincere, il gioco è molto semplice Io passo la tacca profilo e faccio così, tacca proprio Tacca Tacca No Ok No Ok Ok Capito? Capito? Guarda il mio personaggio che è carino Con la barba Borzo Innamorci Buon, Yvonne Ci è un Beliato Buon, grazie Lepre il bianchi Buon, buon 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 Salizzo 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 Ah buono Ok Pronti? Pronti Eh non posso io rana Questa troppo Abilità Abilità E vabbè va tutto questo ottomiglio Ok No Vediamo Sì ma con me ne ho scopito se lo metto con questa cosa Io ora è proprio giocolare No Vediamo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Vieni! Ecco, trovi un'altra cena! Su, su! Diezze! Contro! Diezze! 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 Il suo avversario ha abbonato la partita di Diezze! Continua! Cura Stella! Vabbè, io dovevo andare da zero perché non ho fatto un cazzo! E dai! Ok! Bu! No! Vabbè! Vittoria, di nuovo, su troppo forte, suvo livello, vello tre, continuo. Perfetto. Para! 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 Praticamente mi stanno allenando. Para! Ma io ho vinto! Adesso ve la faccio. Sicuramente mi stanno allenando. Poi mi faranno fare una partita, spero. No! Vabbè ho vinto comunque, troppo forte. Perfetto. No! Volevi! Lezzo! Volevi! 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 No! 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 Ma cosa? ha vinto lui di vincita vabbè ha detto che ora rompò lui quindi ragazzi un saluto da Emanuele iscrivetevi lasciate il pollice in su ditemi se volete altri video su questo gioco se vi piace poi un saluto da Emanuele e al prossimo video bella